In modalità streaming, sulla pagina Facebook di Radio Doppio Zero, prende il via Economia prima e dopo, un ciclo di incontri a cui parteciperanno esperti, docenti, esponenti delle istituzioni affrontando tematiche appartenenti al mondo delle imprese, con indicazioni pratiche su come organizzarsi per il nuovo sistema economico. Gli appuntamenti, entrambi gratuiti per una durata di circa 40 minuti, sono previsti per lunedì 23 e martedì 24 marzo prossimi, alle ore 10, con numerosi esperti del mondo dell'economia. Ci saranno rappresentanti della Segreteria Generale CISL Puglia, dell'Università di Urbino, di Confindustria, Confartigianato, rappresentanti dall'Ordine Nazionale dei Commercialisti, ma anche l'importante partecipazione del Vice Presidente, Commissione e Bilancio al Senato, l'Onorevole Dario Stefano. Con la stessa determinazione con cui stiamo affrontando questa emergenza in atto, spiegano in una nota gli organizzatori, dobbiamo prepararci per ripartire quando la stessa sarà terminata. Nel sistema imprenditoriale, per farlo nel modo più giusto ed efficace, è necessario riflettere velocemente sui cambiamenti da adottare.